L'estate Italiana Festival è un progetto di Italia Festival e del Ministero degli Esteri sull'Italia dei festival nel mondo. Abbiamo coinvolto una serie di festival attraverso la trasmissione di 21 eventi, 21 spettacoli che vanno dal 21 giugno al 28 agosto in diretta e in differita. Abbiamo pensato che in questo momento di particolare distanza fosse importante unirci tutti attraverso un'unica piattaforma italiafestival.tv per applaudire i nostri artisti.